Marco, vengo dalla provincia di Trento. Il vino da 1 a 10? Sicuramente 10. Siccome che il nonno e il papà sono coltivatori, mio padre lavora in una cantina, ormai è una passione familiare e adesso sto studiando viticoltura e enologia all'università. Ho fatto un istituto tecnico agrario, infatti per me il vino è proprio la mia passione personale. È nata fin da piccolo quando ho iniziato a fare il vino in famiglia col nonno e adesso con l'università piano piano spero di riuscire a arrivare al mio obiettivo finale, di diventare dottore in enologia e riuscire a lavorare in una cantina, riuscire a organizzare un po' anche l'azienda di famiglia.